Ciao a tutti e bentornati sul canale di YouTube di Noi che usiamo Lightburn. Come vedete dal titolo che ho sul piano di lavoro, oggi parliamo delle Living Inge, che è quella particolare lavorazione che si fa con il legno, quindi con il multistrato principalmente, per poter dare una curvatura appunto al materiale. Lo vediamo subito dopo la sigla. Prima di cominciare il tutorial, però, due piccole cose che ve le voglio dire. Innanzitutto ringrazio tutti perché ho visto che vi è piaciuta l'iniziativa dei progetti gratis per gli iscritti al canale di YouTube. Ci sono iscritti molti, in tanti hanno scaricato i progetti e, per chi non lo sapesse, continuerò a pubblicare nuovi progetti da qui fino a tutto alla fine di giugno. Per cui avete il tempo anche per iscrivervi, potete andarli poi a prenderli nella tab community del canale di YouTube e potete scaricare anche quelli che magari vi siete persi nelle due volte precedenti. Altra cosa che volevo dirvi, mi è venuto in mente di fare un piccolo esperimento, ovvero sia vorrei fare un video al mese e verrà fatto l'ultimo mercoledì di ogni mese dove andrò a trattare gli argomenti che voi mi chiedete. Ovvero sia, ieri ho fatto un post dicendo se qualcuno ha qualche cosa, vuol chiedere qualcosa su una lavorazione particolare, eccetera, eccetera, metta nei commenti, eccetera. Ho visto che tanti hanno espresso appunto la volontà di fare questo. Per cui penso di dedicare tutti i video dell'ultimo mercoledì del mese alle vostre richieste. Ok, tra altre cose, fra le richieste del post che ho pubblicato sul gruppo, ce n'era anche una che parlava dell'argomento che stavo già preparando, per cui diciamo che non è che me l'ha stimolato, ma era già un po' che ci pensavo e lo volevo fare. E si tratta appunto delle Living Inge. Cosa sono queste Living Inge? Appunto sono, vi faccio vedere, ho fatto una molto piccola che mi serve proprio come sperimentazione, è questo tipo di lavorazione, diciamo, a tagli paralleli che mi consente appunto di andare poi a flettere il legno. Allora, questo video lo dividerò in due parti. Farò questo video che vedete in questo momento, poi farò un altro video, perché diciamo che non è così semplice e non c'è solo questo tipo di lavorazione delle Living Inge. Per cui oggi vi parlerò appunto di queste che sono le più classiche, quelle con i tagli dritti. Nel prossimo video ci sarà invece un qualcosa di diverso, con qualcosa che si vede anche un po' meno nei progetti e così via, però ci tenevo perché ogni forma di Living Inge diversa da quelle che vedremo oggi, quindi vedremo nel prossimo video, hanno delle caratteristiche particolari. Questa per esempio ci consente principalmente di flettere in questo modo il legno, anche se può fare anche una piccola torsione, non so se la vedete e non so se sentite anche il piccolo rumore che fa sfregando. Allora, partiamo da questa e per vedere questa però devo cancellare tutto e vi devo caricare un, diciamo, un file sul piano di lavoro di Lightburn. Ora, questo è il file di cui vi dicevo che ho preparato. Metterò in descrizione il link per andarlo a scaricare chi volesse fare gli esperimenti che ho fatto io, per ossia andare a tagliare queste tesserine in base ai millimetri di spessore del vostro materiale. Come vedete l'ho preparati da un millimetro e mezzo fino ad arrivare a quattro con step da mezzo millimetro l'uno dall'altro. Come vedete anche le righe sono molto più fitte nelle spessori bassi e si allargano in quelli più alti. Questo perché? Proprio perché la, diciamo, la struttura che verrà poi sviluppata da questi tagli consente di flettere il legno proprio in questa maniera qua. Perché se noi facessimo un taglio di questo genere su un quattro millimetri molto probabilmente non riusciremo a fletterlo perché non c'è molta distanza tra l'uno e l'altro. Infatti, se andiamo a vedere, diciamo, nello specifico, vi faccio vedere solamente un paio di esempi. Quindi, allora, le righe nel, diciamo, nel progetto da un millimetro e mezzo di spessore sono a distanza, e lo vediamo, di, lo faccio vedere con lo strumento di misurazione di Lightberg, sono, vabbè, ora non riesco a prenderlo breve, comunque sono, ve lo dico, ecco, 1,50. Quelle da 2 sono da 2, quelle da 3, lo vediamo, sono da 3, e così via. Allora, non andrei con questa lavorazione oltre 4 mm, sia per un fatto, fra virgolette, estetico, che anche per un fatto fisico del materiale che potrebbe anche spaccarsi. Ma lo vedremo approfonditamente dopo questo problema della probabile rottura di una lavorazione del genere, perché dipende da un fattore che poi vi andrò a fare vedere. Ecco, qui vi faccio vedere come ho fatto il, questo, diciamo, questo taglio particolare, appunto, della Living Inge, su questo materiale da 2,5 mm. Una delle cose fondamentali è riuscire a calibrare bene il fuoco. Forse si vede che, ecco, se muovo leggermente, vedete dietro, c'è questo foglio bianco, che poi vi dico cosa serve, e si vede bene anche la luce che c'è, appunto, nei tagli. Questo perché più è a fuoco, meglio viene effettuato il taglio, e maggiore sono le possibilità di riuscita della nostra cerniera. Come vedete, in questo caso, con il 2,5 mm, e tra l'altro è un materiale anche abbastanza duro perché è locumè, riesce abbastanza bene a flettere, e non dà grossi problemi fino a fletterlo a queste, in queste curvature. Più è leggero, quindi più è basso, meno spesso è il materiale, e migliore vengono, meglio vengono questi tipi di cerniere. Ecco, come vedete, come ho fatto vedere anche prima, questi si flettono sia in questo senso, e un pochettino anche in senso torsionale, in questo modo. Però, come vi dicevo, pochi minuti fa, appunto, parleremo anche di altre tipologie di tagli per gli Inge, in modo da adattare alcune lavorazioni in maniera diversa rispetto a questa. Oggi parleremo di queste. Come vedete, sono tutte tagli strutturati in questo modo, e come avete visto anche praticamente da quello che c'era sul piano di lavoro di Lightburn. Ecco, cioè, lo vedete, si tratta di praticamente delle serie di linee da 3, 2, 3, 2, che sono intervallate e leggermente scostate l'uno e dall'altro, in modo da fare questo pattern, così si chiama in gergo, questo pattern particolare, solamente di linee. È forse uno tra i più semplici, non è però uno dei migliori, è il più conosciuto. Ma come vi dicevo, vedremo nel Living Inge con altri pattern in un video dedicato apposta per questa tipologia di lavorazione. Adesso, però, voglio farvi vedere, appunto, cosa significava quel foglio che io avevo mostrato, praticamente, mentre facevo vedere la tavolettina tagliata. Allora, quello che vedete, qui sulla mia scrivania, sono praticamente degli archi. Cosa servono questi archi? A questo documento ve lo metto anche questo, vi metto il link in descrizione per andarlo a scaricare se volete. Questo può, andiamo a vedere nello specifico, fa vedere quali sono le dimensioni massime di un arco che si può fare in base al materiale. e, logicamente, più è sottile il materiale, quindi, diciamo, se parliamo di un millimetro e mezzo, eccetera, possiamo arrivare a fare anche solamente 5 mm di arco, vedete in questo caso, per poi scendere. Più è spesso il materiale, quindi se andiamo sui 3,5-4 mm, anche 3 mm, e meno sarà flessibile, per cui ci consentirà solamente di fare degli archi abbastanza più grandi, come questo che è da 28, 29 e da 30. Vedete, qui sono partito da 5 mm per poi crescere. Allora, questo materiale che vi ho fatto vedere, questo non l'ho fatto io, l'ho scaricato da un sito americano, e che è stato molto preciso su questa tipologia, quindi, come al solito, non voglio arrogarmi proprietà che non ho, questo l'ho scaricato, era fatto molto bene, mi serviva per spiegare le cose, per cui me ne sono fatto tesoro, e lo voglio condividere con voi. Quindi, nel nostro caso, come funziona questo? Chiamiamolo regolo. Allora, si va a prendere il nostro oggettino, in questo caso, si mette dove inizia l'arco, l'inizio anche del pattern di taglio, e poi si va a flettere. Vedete, io qui non ho problemi a fletterlo in questo modo, quindi, praticamente, come avete visto, posso andare anche oltre, però, essendo un 2,5 mm, io mi fermerei, diciamo, a un arco, in questo modo. Quindi, praticamente, a cosa serve questa regola, questo regolo, più testo che regola? Cioè, mi dice quanto io devo andare a fare il pattern in base alla curvatura che voglio ottenere. Cioè, se io voglio ottenere una curvatura da 30 mm, con un materiale spesso, devo, appunto, fare un, vedete, con questo ce la faccio tranquillamente, magari con un 4 mm sono al limite, e vedete che qua, io posso andare anche un pochino più vicino, perché il 2,5 mm mi consente anche di andare a fare archi di circa, in questo caso, 18 mm. Ecco, questo è un po' un, diciamo, un prontuario per vedere di come fare la curva, quindi, di quanto fare la curva per avere un angolo a 90 gradi. Va in base allo spessore. Tenete presente che, per esempio, con 1,5 mm riusciamo a fare questo, con 2 mm riusciamo a fare questo, sicuramente con 1,5 mm possiamo fare questi e tutto il resto, con 2 mm possiamo fare questo e tutto il resto, con 2,5 mm possiamo fare questo e così via, 3,5 mm, 3,3,5 mm e 4 mm. Quindi, praticamente, con questo, vi regolate in base allo spessore quanto dovete fare questa lavorazione per poterla incurvare almeno di 90 gradi. Penso che questo sia uno strumento abbastanza utile. La lavorazione di un, diciamo, un pattern in questo modo porta via abbastanza tempo. Tenete presente che, anche se io ho una macchina potentissima, però non ho più nemmeno quello piccolino piccolino che avevo tempo fa di laser, mi c'è impiegato per fare quello che avete visto circa una 15 minuti. e quindi porta via parecchio tempo. Comunque, diciamo che poi le lavorazioni vengono abbastanza bene. Allora, cosa dirvi oltre? Allora, secondo me, dobbiamo andare a testarlo, magari non solamente su queste tesserine, ma andremo a fare anche su qualche progetto particolare. Adesso vi faccio vedere un progetto che prevede la costruzione con questo tipo di, diciamo, di cerniera e andiamo a vedere quali sono le caratteristiche. Ecco, questo è un piccolo progetto che prevede, appunto, la curvatura di questa parte del coperchio. è un progetto per uno spessore di 3 mm e adesso lo andiamo a vedere ancora più nello specifico. Allora, vado a misurare e faccio vedere che questo è un da 3 mm, si vede appunto da questi incastri che sono stati fatti da 3 mm. andiamo a vedere anche quant'è la, diciamo, la distanza che è stata prevista per questo, per questa cerniera e sono di circa 25 mm. Se vi ricordate, 25 mm, più o meno, vi faccio vedere ora qual è la, diciamo, la curvatura 25 mm ed è questa. E come vedete, con il 2,5 lo faccio, lì è previsto per il 3 mm e quindi viene fatto ancora meglio. Perché 2,5 io posso andare anche oltre, vedete, con il 3 non dico che siamo al limite, ma quasi. Per cui, diciamo che, per quanto riguarda, appunto, questo tipo di lavorazione è stata ben adeguata la, diciamo, questa, questa cerniera e, diciamo che è abbastanza, anzi forse anche un po' abbondante, comunque ci vuole. Allora, io questo progetto, ve lo lascio anche questo, in descrizione il link per poterlo scaricare, per poter andare a provare anche questa scatoletta e, vabbè, provate a farlo. se volete. Questo è previsto per 3 mm. Se ci fossero dei problemi, dovete, cioè, avete altro materiale, logicamente dovrete andare a modificare questi, queste cose, questi intagli. non so se il Resize Slot, eccetera, di Lightbole lo fa fare, però, anzi, proviamo, già che siamo qua, seleziono tutto, seleziono tutto e andiamo a fare un Resize Slot e, diciamo, questo è da 3, guardiamo cosa mi prende, questo è da 3 e lo vogliamo fare, mettiamo che lo vogliamo ridurre da 2 e mezzo, 2.5. Al momento, non mi prende nulla, andiamo a vedere quelli larghi, mi prende questi due, ma non mi prende questo, aumentiamo un attimo la tolleranza, magari, mettiamo 0.2 e vediamo se mi prende, no, questo non me lo prende, guardiamo questo e, niente, questo Lightbole non ce lo fa fare, quindi, praticamente, questo voi lo dovete andare a fare per conto vostro. Questo è perché dico che non funziona molto bene, questa è anche la prova, e, nonostante che sono fatti anche abbastanza bene questi tagli. Allora, cosa dire? Penso che per questo primo video, siccome non le voglio fare molto lunghe, se no diventano pesanti, direi che mi fermo qua. Per quanto riguarda l'argomento, invece, ne ritratteremo in uno dei prossimi video. Innanzitutto, io vi lascio, vi saluto e, come sempre, vi dico sempre, se lasciate un like, se vi è piaciuto, poi iscrivetevi al canale, così potete scaricare non solo questo, ma anche gli altri file che metto nella community, e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!